Nella giornata di venerdì 30 aprile 2021, in Milano e Torino, i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno tratto in arresto due maggiorenni stranieri, originari del Marocco, classe 1997-1983, dando esecuzione all'ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP di Monza, in quanto entrambi responsabili di due furti con strappo nei confronti di anziani, in particolare, i militari della stazione di Sesto San Giovanni, coordinati dalla procura della Repubblica di Monza, hanno avviato le indagini a seguito di due furti con strappo, avvenuti in quel comune nelle date del 28 agosto e primo settembre 2020, allora quando gli investigatori, ricevute le denunce dei due distinti reati, ne appuravano una chiara convergenza sia per le descrizioni degli autori, che per le dinamiche. Infatti, entrambe le vittime, che a distanza di breve tempo, sono state colpite dai due stranieri, erano donne anziane e ottantenni, di rientro presso la propria abitazione in orari mattutini, dopo aver fatto le spese mattutine in centro.